Io ho dovuto nascere quando lavoravo per il tuo padre. Ma meglio così allora. Oggi lavorerete per me. A me quell'uomo non mi piace. Chi è il re Tani? Dai, andiamo! Dai, vieni con me! Dai! Io non mi salvo comunque! Vai via! No, 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 ti prego! Ascoltami, so dattene a scannare i Tani! No, 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 no! Ascoltami